Per eliminarli basta colpire quella specie di occhio disegnato sul carapace. Sembra facile. Colpolate! Ulrich! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 4, 2, via! 4, 2, via! 5, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 3, 2, via! 3, 2, via!